L'Orchestra Mandolinistica di Lugano Il programma che proponiamo questa sera è particolare, si chiama Concerto per Pubblico e Orchestra perché accanto a momenti strumentali, a brani puramente strumentali, classici, meno classici, popolari, proponiamo delle canzoni che il pubblico è invitato a cantare. Dicevano il testo e poi abbiamo un concerto proprio per pubblico e orchestra. È una formula che piace parecchio perché il pubblico si sente coinvolto e quindi partecipe del concerto stesso. Diciamo che l'anno prossimo festeggeremo il venticinquesimo e stiamo già allestendo dei grandi progetti per festeggiare i musicisti che qui sono più o meno della zona. Abbiamo un paio di elementi che provengono da Kobo. Grazie per essere intervenuti così numerosi alla terza edizione del concerto offerto dalla Orchestra Mandolinistica di Lugano diretta dal maestro Mauro Pacchini. Grazie. 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 Grazie.